Siamo qui con il presidente Ascomo di Torre del Greco che questa mattina a mezzo di comunicato stampa ha chiesto un'iniziativa maggiore per quanto riguarda la vaccinazione delle imprese locali. Può parlarci meglio di questa proposta? Noi come associazione abbiamo messo in campo tutti i mezzi dall'informazione alla tutela e alla collaborazione con altre nostre istituzioni per fare in modo di informare quanto più è possibile, anzi addirittura abbiamo messo in campo anche attività assieme all'amministrazione comunale per supportare per quanto è possibile le aziende. Adesso per un ulteriore sforzo ci è venuto dalla collaborazione, dal nuovo protocollo che si è sviluppato fra il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro con le nostre associazioni datoriali e abbiamo sfruttato, anzi abbiamo preso il provvedimento e lo stiamo facendo nostro per quanto è possibile organizzarlo sul territorio. Di che cosa si tratta? Si tratta di cercare di vaccinare quanto più è possibile i negozianti che sono in prima linea contro l'infezione cercando di facilitare il vaccino. È una possibilità che il Ministero ci ha dato e per quanto è possibile noi cerchiamo di utilizzarlo. Un'iniziativa che comunque arriva nel momento in cui anche il Presidente De Luca ha parlato della necessità di vaccinare le attività economiche, proprio ieri. Sì, certamente. De Luca risponde chiaramente al grido di dolore di tante aziende che in effetti cercano di ripartire, chiedono di ripartire e gli è chiaramente impedite dalle disposizioni del Ministero. Cioè De Luca è entrato in conflitto col Governo chiedendo di vaccinare per l'appunto perlomeno il personale e gli utenti nelle piccole isole per cercare di risolvere almeno il problema del turismo delle piccole isole per quanto riguarda la prossima stagione turistica. Come si procederà in termini pratici per questa campagna di vaccinazione per le imprese economiche? L'accordo nazionale, qui citava il Presidente, fa riferimento alle attività produttive del territorio e ovviamente anche ai dipendenti. Quindi significa vaccinare, diciamo, senza rispettare quelli che sono gli ordini di età, quindi di anziana età, ma praticamente è aperta a tutte le aziende che hanno dipendenti e vogliono far vaccinarsi prima, diciamo, di quelle che sarebbe l'ordine nazionale. Noi abbiamo creato quest'hub qui alla Stecca, quindi ci saranno delle sale dove ci saranno le sale d'attese, la sala di registrazione e poi la sala medica dove verranno fatti i vaccini. Ovviamente stiamo chiedendo collaborazione dei medici sul territorio, nonché della Croce Rossa italiana. Vediamo, siccome chiaramente ci sono i costi da sostenere, dobbiamo capire bene, diciamo, anticipare questo vaccino non significa poi aggravare di costi le imprese. L'ASL ci ha dato già l'ok informale, quindi dovremmo fare una richiesta ufficiale con, diciamo, quelle che sono le procedure sia gestionali che sanitarie. Quindi sarà fatto tutto nel rispetto della legge e dell'accordo nazionale. Da esercente e anche da rappresentante delle problematiche degli esercenti del posto, quanto è importante ripartire e ripartire in sicurezza? Secondo me è importantissimo, perché ci siamo subito preparati per questa iniziativa, perché chiaramente sia per i datori di lavoro che per i dipendenti, nonché dei clienti, e avere, diciamo, a parlare con le attività produttive a cui mi rivolgo, che so che sono vaccinati, che non mi possono trasmettere nulla, sicuramente è importante, sia per la salute dei dipendenti che per quello che riguarda quelli dei clienti. Quindi una volta vaccinati potrà riprendersi l'economia anche in vista della stagione estiva? Questo purtroppo non dipende da noi, dipende dal governo. Però già essere coperti da vaccinazione sicuramente diventa un aspetto, sicuramente anche da un punto di vista di comunicazione, migliore verso la clientela, che normalmente si rivolgono ai commercianti e alle attività produttive. Gli esercenti hanno dimostrato una disponibilità al vaccino? Noi siamo partiti praticamente ieri con il comunicato stampa, adesso organizzeremo, appena abbiamo anche la possibilità di capire i costi reali, di invitare tutte le attività produttive a prenotarsi per poter fare il vaccino e chiaramente informandoli anche dei costi vivi delle spese che andremo a sostenere.